Una risorsa sana, pura e naturale. Questa è l'acqua del Gran Sasso che scorre dai rubinetti delle nostre case. Oggi per quest'acqua è stato avviato l'iter per la certificazione del Ministero dell'Ambiente e la Gran Sasso Acqua, costruito su tale risorsa del territorio aquilano, un progetto teso a renderla prodotto tipico locale. Abbiamo voluto promuovere questo prodotto per sensibilizzare la cittadinanza, l'utenza, a bere l'acqua dal rubinetto anziché fare fatica e spendere sull'acquisto dell'acqua minerale. Abbiamo questa possibilità, è certificata con controlli periodici e quindi noi abbiamo avuto questa idea anche per dare un marchio all'azienda, per valorizzare il nostro territorio, per far sì che si possa in qualche modo certificare questo prodotto come un prodotto tipico, un prodotto tipico particolare perché in genere il prodotto tipico è circoscritto da un ambito territoriale. In realtà qua abbiamo il prodotto tipico dentro casa o dentro il ristorante, quindi è una cosa molto originale. Intorno all'iniziativa una rete di ristoranti dell'Aquilano che utilizzano esclusivamente l'acqua del Gran Sasso, facendola trovare ai clienti sulla propria tavola. Io sono soddisfatta, è parecchio tempo che la do, però che devo dire? Adoperatela tutti quanti i ristoranti dell'Aquila e dintorni, perché penso che sia una bella iniziativa anche questo della Gran Sasso Acqua che ci offre delle bottiglie, siamo pienamente d'accordo. Noi abbiamo aderito da subito a questa iniziativa anche perché ormai forse sono quattro anni che forniamo acqua naturizzata dell'acquedotto del Gran Sasso, quindi le cose vanno a meraviglia.